Guerra agli incidenti stradali. A dichiararla, la Polizia Stradale è chiamata ogni giorno a far fronte ad una vera e propria piaga di tutti i tempi per una regione come la Puglia, che lo scorso anno ha indossato la maglia nera per numero di sinistri stradali. 25 al giorno nel 2022 con morti e feriti, in attesa di conoscere quello che sarà il bilancio di questo 2023 che non fa presagire dati migliori. Da domani e per i prossimi 5 e fine settimana, la Polizia Stradale sarà impegnata in tutto il territorio nazionale in una corposa attività preventiva che si concluderà il 19 novembre, giornata in memoria delle vittime della strada. Un'attività di prevenzione degli incidenti stradali e contestuale educazione e la guida sicura dovuti all'uso di alcol, droghe e distrazioni. In particolare, la Polizia Stradale presiderà le diverse province italiane insieme ai medici della Polizia di Stato con l'obiettivo di scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione che continua a rappresentare una delle principali cause di incidentalità. L'Italia ha aderito al progetto mondiale ed europeo del dimezzamento del numero di morti entro il 2030 e azzeramento nel 2050. In questa direzione sono orientati dunque gli sforzi operativi della Polstrada che guarda con particolare attenzione alle giovani generazioni. Relativamente a queste ultime, un focus è evidenziato che un'altra causa di incidentalità è la distrazione. Anche su questo fronte l'impegno della Polizia Stradale è alto e costante. Non a caso, proprio ai giovani, sarà dedicata la giornata conclusiva in ciascuna provincia italiana di questa campagna preventiva.